Ciao a tutti, continuando con il Natale, nel video tutorial di oggi realizziamo una stella di carta 3D da usare come addobbo natalizia. La prima cosa che dobbiamo fare è disegnare o scaricare dal web una stella a 6 punte. All'interno della stella ne disegniamo una più piccola e all'interno di quest'ultima una ancora più piccola. Poi sovrapponiamo il disegno su un cartoncino e blocchiamo con scotch di carta. Ritaliamo le stelle iniziando da quella più piccola. Ritaliamo le stelle iniziando da quella più piccola. Poi quella un po' più grande. Questa stella non ci servirà per realizzare quella che vogliamo. creare adesso ma non la buttiamo, la conserviamo perché ne possiamo realizzare una più piccolina. Poi. Poi. di queste stelle ce ne servono quattro quindi dobbiamo ritagliarne altre tre. Quindi abbiamo quattro stelle grandi e quattro stelle piccole. prendiamo le stelle piccole e le pieghiamo a metà. prendiamo le stelle piccole e le pieghiamo a metà. le sovrapponiamo. le pieghiamo a metà. le pieghiamo a metà. e le spigliamo. pieghiamo due stelle da un lato e due stelle dall'altro. prendiamo un filo da pesca. pieghiamo a metà. pieghiamo a metà. pieghiamo a metà. facciamo un doppio nodo. pieghiamo a metà. poi pieghiamo a metà. Ora prendiamo le quattro stelle grandi e le pieghiamo a metà. Le sovrapponiamo. Prendiamo le stelle piccole e le appendiamo all'interno di quelle grandi in questo modo. Facciamo un solo nodo. E centriamo la stella piccola. Con uno dei due fili facciamo un paio di giri intorno alla spina per bloccare la stella piccola. I facciamo un altro doppio nodo. Uniamo i due fili con un nodo così da poterla appendere. Apriamo la stella piccolina. Prendiamo la stella piccola. 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 Allo stesso modo possiamo fare un'altra stellina. E questo è il risultato. Prendiamo la stella piccola. Prendete un bel like e iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio a tutti. Ciao a presto. Ciao.